bene eduard e ora? un incontro è oltre quelle colline in lontananza fai attenzione a quel villaggio bene ragazzi ma quanto tempo è passato? bianco sinistro carri catturati entrano nel villaggio occhio ragazzi va bene siamo ben oltre le linee dei cruchchi ora mmm non possiamo sapere cosa ci aspetta ma che pensiero mi c'è? eh cavolo esatto viva la felicità bene ma scusa ma due... un secondo... un secondo fa era notte mi è trattata l'elettrice pronta? andiamo ho buttato sul muro di un ponte mi faranno causa dai che... ah! rifornimenti i cruchchi mi dispiace eccolo lì piano 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 eh se sono costretto preferisco lasciarli... no come no l'ho detto undertale pacifist un par di coglioni qua siamo in guerra e ragazzi quasi quasi ce la facciamo quasi quasi iettatore siamo a posto non proprio non proprio non proprio il problema è chi è che ci spara? un cannone o un carro? perché il carro è molto più preoccupante c'è uno scalo ferroviario ah dov'è lo scalo? lo scalo? vabbè andiamo avanti andiamo avanti non fermiamoci quanto manca? io lo sto andando dritto eh dritto se l'obiettivo è dritto bene se no si preparano a riprendere cambrè io dico di tirare dritti ok ok e ora a conquista lo scalo ferroviario ok andiamo confondiamoli mettiamoli in difficoltà e speriamo non capiscano che ci siamo solo noi e speriamo non capiscano ok oh cosa mi spari? secondo devo a riparare e ora possiamo andare interessante attenzione i crocchetti mettiamoli in difficoltà mettiamoli in difficoltà via i lampioni così non possono vedere bello riparo eh ahhh deve eh sì se no si riscalla com'è che non l'ho preso l'ho preso l'ho preso lo metti di sotto e come ti metto sotto se non c'è nessuno ah quello preso spero solo che non arrivino cari da dietro se no lì sì che siamo veramente sbagliato tutto hai sbagliato tutto parlavo ahhh voglio una lezione voglio due pacche eh va bene ma e che fai ora? all'arco nooo non va bene ripara un secondo lasciatemi il tempo di riparare via così 51% ho detto 51% nooo quell'anticarro vabbè quella non fa niente niente via andiamo andiamo quell'anticarro però fa andano eh cazzo ma come ci butano le peraudi che peraudi se tutti uffa non scoppiare ok cavolo ci metto qui eh nell'angolino così voi sparatevi se li vedete eh e qui sono in una situazione leggermente critica no 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 ok ok non è più critica non è più critica sono a postissimo eh ma noi ne abbiamo uno che è più corazzato ancora di più più di tutto fanteria de merda oh però noi ridiamo e scherziamo però la fanteria sta dando problemi va bene tipo quello preso puntate puntate ecco puntate su nooo ce n'è uno dietro ah no quello lì ho un mezzo di rifornimento quale quello esatto o questo vabbè questo qui chi è e adesso cosa fai se ti seguo se ti seguo non fai qui il cazzone da di eh da dietro sono molto 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 vulnerabili ah ah eccolo qui che è tornato mi siete mancati e da un po' che non mi vedo sembra sembra simile al nostro prima ma che il nostro è cazzotto il vostro tac ora aspetto io ci provo di nuovo da qui che cazzo ingaggiare e scu non ci arriva nemmeno il colpo aspetta tac un po' di più un po' di più un po' di più eeeh viva la prospettiva mi sa che ci stanno mancando ci stanno mancando ci stanno mancando questo ci ha preso ci hanno preso due boom no ora dobbiamo ripiegare ripiegare ah ok no mi sono quasi fottuto no gli ho fatto fare questo qui questo qui io pensavo che vabbè fa il giro invece no è passato dal fiume eh continuiamo a sparare e vabbè se non riesco a becarlo dai eh ma perché che non pensavo andare sul fiume a me non mi sembra che sia nella loro spalla quella uno di sicuro non resteremo qui ah mi hai mancato di tanto cazzo 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 e che culo che culo ci ha mancato di di uno sputtacchio ma voi non avete in mente non avete non avete in mente cosa è successo avevo sette di vita ho detto ciao sto qua prende e becca la casa non becca me no ottiti fammi fare ok puttana non mi fai fare le riparazioni ora ti spacco io ah no è andato fuori è andato fuori fuck di shit oh almeno stavolta me le hai fatte finire le riparazioni ora ti spaccherò per non avermi fatto finire prima soppresso no oppresso ho soppresso vabbè soppresso soppresso e io mi metto qui colpiscimi colpisci ti sfido a colpirmi guarda scaga oh oh lo sa sa che si possono rompere i muri ciao boom di faccia di faccia lo prego hai altro altro colpetto così ok preso presissimo oh cazzo e allora si che siamo potuti ossia sparare è sbagliato perché io so fare questo sono finiti sono finiti per adesso eh stocca guardate lì possiamo andare ok piano vediamo un po' bene ma non benissimo un po' troppo in là 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 bene ma non benissimo anche questo preso 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 però ammettetelo ce lo fa dopo se wow quella era potente il problema che non è una 7b ce ne sono tipo 5 e bloom ennesima ennesima non sono solo io a dirlo dai 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 bastardo mi sapeva lo sapeva ma lo vede ma la vostra tattica cioè io non lo vedevo era davanti a me cazzo centro perfetto il problema è che mo' ci distruggono via dobbiamo andare al riparo buttaci un po' di acqua si 17 37 28 38 puttana eh facciamo uscire apri la finestra non la finestra guardate come ci si mette al riparo perfettamente dietro a un muro che si potrebbe spaccare sputandosi d'osso e che aspetta guarda guarda guardalo guardalo oh almeno non fa più b b b b no sta arrivando via dietro il muro va bene dobbiamo pensare a quello grosso eccolo lo stiamo distruggendo quello grosso lui non ci sta colpendo nè che una volta avanti è potenti mancato mancato di faccia boh quello 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 era un colpo coi contro tutti e anche questo qui bravo crocchetto stai lì finiti e spero di si no appunto questo si che era da qualcosa di molto pesante stai arrivando andiamo dove no questo qua gli ho fatto male gli ho fatto male però e anticarro fanterina arrivo che peccato ma dove da lì o da qui boh ditemi voi mi sa che sono qua intorno che carro c'è un carro qua un carretto eccolo gli ho dato il benvenuto ora ti do un altro benvenuto però un po' più forte ora ti do l'addio via e via così andiamo ce l'ho fatta io ma cosa prossima fermata cabrum non capisco il punta adesso sto bene ragazzi si ok che cavolo non proprio no 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 puttana merda cantano oh oh spero siano alleati non so se sono merda tutto bene mica tanto ok non erano alleati merda che cosa non è il momento di senti i crocchi perchè si interrompe sul più bello ca e no e no e anche town center adesso la presa no perdita perdita di merda perdita di gas no ma porca è la fine peggiore che potevano fare è morto sia town center sia best sia macman siamo rimasti noi noi ma non so noi che siamo rimasti integri che fine del si ecco da dove arriva per la scena da questo e ora ma siamo ancora vivi non è non c'era tipo un assalto tutti morti vabbè è finita la missione ah cosa e questo ah è ancora vivo ancora vivo macmanus lo iettatore su serio sei ancora vivo che cosa intenzione di fare pilota intenzione di boom andiamo a piedi no dai no dai come a piedi quello ci sono ah i guanti che rappresentano qualcosa town center insieme a best oltre 300 carri armati hanno preso parte della seconda battaglia di cammray mannaggia pochi eh eh a piedi vate a fare la guerra si è conclusa un mese più tardi guardate guardate che che botta di cubo non posso dire altro non c'entra niente ma mi è venuta a quanto pare la missione è terminata che peccato beh è durata è cavolo se è durata l'unico l'unico problema ma allora l'unico piccolo problema ma che è anche il più grande di tutti è che come faccio a spiegarlo continua continua a cerchio continua è che questa qui sangue e fango era una in totale sono solo sei sono solo sei che però durano anche tipo questa tanto davvero tanto non so se oggi riuscirò a fare altri comunque cercherò di poter di finire il primo possibile comunque spero che il video vi sia piaciuto anche se è durato non so quanti siano arrivati fino a questo punto comunque per quelli che sono arrivati a questo punto vi vi complimento con voi mi complimento con voi e spero che seguiate anche i prossimi video ciao a tutti